Si dice che le donne siano molto forti ma non è che nasciamo forti la vita ci fa diventare così le esigenze che ci portano a partire possono essere più di una desiderio di scoperta oppure di lavoro con questo ne parleremo con Veronica Pinna che giovanissima è partita per Londra Veronica grazie per questa chiacchierata Grazie a te Allora di solito le donne sono un po' più timide in questo senso e quindi parlare di sé è sempre un po' più difficile ma poi tra donne ci capiamo Allora tu di dove sei? Io sono originaria di Narcao E poi un bel giorno cos'è successo? Un bel giorno ho deciso di partire a Londra Ma perché? Allora è stato un periodo di fermo dal lavoro avevo già un desiderio da alcuni anni di conoscere Londra non come turista ma un po' più insomma viverla proprio per bene per cui grazie ad un'amica che già viveva lì da un po' di tempo diciamo ho avuto un piccolo aggancio per per staccarmi da questa situazione e partire Allora tu avevi 30 anni all'incirca quando sei partita ma cosa facevi qui? Qual è stato il tuo percorso di crescita? A livello lavorativo ho iniziato con la ristorazione ho lavorato nei villaggi per diversi anni Qua zona? Sì Chia Pula insomma diverse parti e poi ho aiutato anche mio padre con la sua impresa edile facevo lavoro da ufficio ed è stato proprio con lui poi che purtroppo per via della crisi ci siamo fermati e in quel periodo ho preso poi la decisione di insomma di partire Cosa ti hanno detto i tuoi genitori? Diciamo loro erano un po' preoccupati all'inizio però erano anche contenti di di vedermi partire insomma di di vivere questa nuova esperienza per cui insomma mi hanno lasciato andare giustamente Prime sensazioni dalla partenza avevi paura nostalgia Nostalgia sì avevo anche paura perché era la prima volta che stavo in un paese Ma tu sei partita e hai già deciso di stare là sicuramente sei partita convinta di mi trasferisco Sì 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 sono partita con quell'idea L'alloggio chi ti ha ricevuto per prima? La tua amica o hai trovato casa? Sì no no è stato l'aiuto proprio della della mia amica ho vissuto con lei il primo periodo insomma mi ha dato una mano in tutto diciamo E là dove eravate esattamente in Londra in centro? Non centro o nella zona est di Londra e sì quindi ho vissuto con lei mi ha dato una mano mi ha spiegato come fare per insomma la ricerca del lavoro Qual era la tua aspettativa? Cosa avresti voluto fare se sei riuscita a farlo? La mia aspettativa era beh anzitutto imparare bene la lingua inglese perché quando sono partita avevo diciamo seguito un corso base però avevo molte difficoltà a livello lavorativo poi anche lì ho iniziato con la ristorazione perché avevo già dell'esperienza per cui per me era molto più facile trovare su quel settore e e poi dopodiché dopo qualche anno sono riuscita a fare un po' quello che volevo che era entrare nel mondo della security Che bello che coraggiosa Sì Come hai fatto? Allora inizialmente ho avuto difficoltà perché non sapevo come dovevo muovermi poi ho conosciuto delle persone che già facevano parte di quel mondo per cui mi hanno dato delle dritte ecco per Cos'è che ti appassionava della security? Magari anche guardando dei telefilm così un po' insomma è nata questa cosa diciamo Ah ti appassionava lì? Mi appassionava poi quando ho conosciuto delle persone che già facevano parte di quel mondo allora mi sono appassionata anche un po' di più Ma bisogna avere delle caratteristiche per poter accedere a questo corso e per poter fare questo lavoro? Nessuna caratteristica in particolare però ovviamente deve piacere perché è un lavoro di responsabilità e Rissicuriti dove? Allora ho lavorato con due diverse agenzie con una lavoravo nelle discoteche mentre con l'altra venivo diciamo mandato in diverse diverse parti sì per esempio nei negozi oppure nei party di grandi aziende insomma un po' Ma quindi fisicamente devi essere anche prestanti insomma fai attività fisica un pochino sì poi a differenza dell'Italia in Inghilterra si segue un corso si deve si deve prendere la qualifica per poter lavorare in security e abbiamo fatto anche difesa personale per cui sì E ti è mai capitato di dover difenderti? Fortunatamente no però insomma ci hanno insegnato tutte le tecniche per per poterci difendere I tatuaggi fanno parte di te cosa significano? Rappresentano un po' magari alcuni momenti della mia vita o degli stati d'animo Dai racconti posso raccontarti questo il teschio che per molti sta a significare la morte ma non è così perché il teschio è un segno di forza per cui rappresenta poi una parte del mio carattere e questa? questo è un cantante Billy Armstrong dei Green Day vabbè sono una fans quindi la stella e questo è un po' riferito alla musica punk rock che ascoltavo quando ero un po' più giovane e questo invece è un po' giapponese stile giapponese un dragone che però non ho ancora finito ti sei ambientata subito come ti hanno ricevuto difficoltà a parte la lingua anche nel mangiare inizialmente allora per quanto riguarda il mangiare sì un po' di difficoltà quando sono arrivata io perché non era facile magari trovare i prodotti che adesso poi lì si trovano facilmente i nostri prodotti italiani magari la pasta o alcune marche che anni parliamo che anno si è arrivata a tua Londra a novembre 2012 che è anche abbastanza recente però c'era c'era ancora difficoltà ero diciamo attaccata alle nostre abitudini culinarie per cui quello si è stata un po' di difficoltà poi a livello di amicizie non ho avuto difficoltà sinceramente ho iniziato a uscire da subito diciamo tutti al centro di Londra c'è tanto da fare per cui non ho avuto difficoltà a conoscere delle persone magari un po' con la lingua inizialmente però riuscivi a mantenerti difficoltà a mantenermi no assolutamente anche perché stiamo parlano dell'Inghilterra per cui lavoro c'è non si lavora bene per cui e poi passano un anno due anni tre anni sono passate veramente in fretta perché c'è talmente tanto da fare che forse un anno sembrano sei mesi sei mesi di vita sì un po' di nostalgia di casa sì magari il mare il sole però insomma io sono stata benissimo tutto il tempo che sono stata lì ecco non era nelle tue previsioni comunque di tornare o in realtà no avevo l'idea di stare lì volevo stare lì eh sono stata costretta per via della pandemia la situazione era diciamo non delle migliori per cui non dico che sono stata obbligata però quindi noi ci siamo lamentati in Italia ma in realtà all'estero forse era peggio credo di sì ma c'era molta difficoltà a reperire il cibo tant'è vero che mi sono ritrovata in una situazione proprio di condivisione con i miei conquilini quello che si trovava lo mangiavamo tutti assieme come in tempi di guerra sì 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 per cui è stato un toccasana poi tornare qua e anche lì hai deciso torno o pensavi poi di farti un periodo qua e poi di tornare? ho pensato di farmi un periodo poi vedere un po' la situazione come andava con la pandemia e magari rientrare lì ehm poi ci sono state una serie di situazioni e oggi sono ancora qua però sì l'idea era quella di tornare lì e invece sei tornata qua? sono tornata qua sì perché? ehm beh sicuramente rientrare qua mi faceva con tutto quello che stava succedendo con la pandemia mi faceva sentire più sicura più insomma ero un po' spaventata diciamo in quel momento per cui pensavo che la cosa migliore fosse appunto stare qua tornare alle mie origini stare con la mia famiglia tu sei molto legata a tua nonna sì abbastanza sì 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 ma hai sempre avuto questo legame o? sì da sempre da piccola cosa ti dava tua nonna? ehm un affetto un affetto particolare sì abbiamo un legame molto particolare parlate di tutto? sì abbastanza sì ehm credo ehm ho un legame forte anche con mia madre però con mia nonna è è fortissimo la nonna quanti anni ha? è 92 che meraviglia quindi è ancora lucida? sì un pochino sì oggi tu sei tornata da quanto tempo? eh inizio pandemia quindi parliamo del 2020 praticamente e hai deciso di stabilizzarti? per ora sì eh ci sono state una serie di situazioni ho iniziato ho trovato lavoro qua ho adottato una cagnolina per cui hai la passione della fotografia? ho la passione della fotografia sì forse forse al 2010 ehm in realtà forse già da prima mi piaceva però mi ci sono avvicinata di più in quel periodo mi era stata regalata una macchina fotografica e quindi da lì è scoppiata proprio la passione ti piacciono i più panorami o i soggetti? i soggetti mi piace mi piace il ritratto mi piace ritrarre le persone perché il volto di delle persone ci racconta qualcosa della loro vita oggi se tu dovessi raccontare chi è Veronica in terza persona come ti vedi come donna? mi sento una donna abbastanza coraggiosa una donna curiosa sempre pronta alle avventure e appassionata capisco che c'è questa voglia di partire e condivido perché secondo me penso che anche tu oggi all'alba della tua esperienza credo che non sei assolutamente pentita cosa consiglieresti a tua nipote per esempio o a un'amica a un amico a livello lavorativo diciamo in generale di partire di fare delle esperienze poi di tornare con un bagaglio di esperienze cosa lo consiglieresti? io sì consiglierei a tutti di partire di viaggiare perché fino a prima della mia partenza in Inghilterra mi sono resa conto che anche se viviamo in un posto bellissimo siamo un po' chiusi magari fare un'esperienza fuori impara a conoscere delle nuove culture a capire tante cose quindi un'esperienza che veramente consiglio a tutti quindi tu dove ti senti cambiata o migliorata? mi sento migliorata sia dal punto di vista professionale ovviamente perché ho avuto la possibilità di di fare di lavorare ma anche dal punto di vista umano sia perché mi ha aperto la mente sono stata a contatto con persone di tutto il mondo ho conosciuto una cultura diversa per cui per cui sì mi sento una persona migliore più aperta mentalmente come mai quando sei tornata non hai provato a cercare ancora nella security o nella ristorazione visto che ce n'è così tanto bisogno soprattutto qua in Sardegna? allora in realtà io ho cercato però non ho trovato finora ho avuto difficoltà cosa vorresti fare? security o ristorazione? sicuramente security perché mi appassiona molto di più della ristorazione però per ora ho avuto insomma difficoltà a trovare però continuerò con la mia beh anche qua penso che siano tramite agenzie no? credo di sì 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 ho fatto qualche ricerca ho trovato delle agenzie ho inviato il curriculum ma anche più di una volta e arriverà arriverà sicuramente primo o poi sì e l'impresa del tuo papà c'è ancora? mio padre è in pensione adesso per cui sei figlia unica? ho un fratello e lui si occupa di? lui fa il cuoco ah vedi? sì che meraviglia quindi tu eri in sala lui era in cucina magari no? eh abbiamo lavorato in posti diversi però sì facevamo io ero in sala lui era in cucina sì avete mai pensato di operare qualcosa di vostro? mh magari mio fratello sì io però sono più orientata su degli altre cose per cui in realtà no ti ricordi qualcosa della tua infanzia con la nonna? allora mi ricordo tante gite assieme sì spesso faceva delle gite organizzate per cui mi portava sempre con lei quindi soprattutto questi ricordi e poi passavo molto tempo con lei andavo a dormire a casa sua ricordi nella sua casa quando facevo la colazione poi magari mi raccontava delle cose tipo? ehm di quando era giovane lei quello che faceva con la sorella non possono notare che hai una magliettina un po' particolare che non hai messo a posta o sì dire la verità Narcao Blues è una delle mie passioni Narcao Blues sia per la musica che per la fotografia e infatti ho avuto la possibilità di negli ultimi due anni di lavorare come fotografa a Narcao Blues è stata una grossa soddisfazione per me sì tantissimo hai conosciuto qualcuno? sì ho avuto la possibilità di di conoscere parte ovviamente le persone che lavorano che fanno parte dell'organizzazione con cui ho avuto piacere di condividere questa esperienza degli artisti internazionali e ovviamente anche degli altri fotografi che condividono la mia stessa passione senti parliamo di territorio di personalità di caratteri caratteri il sardo ha un carattere orgoglioso è molto legato al suo territorio però è molto ospitale molto generoso ti ci rivedi? sì diciamo che mi ci rivedo in tutte queste caratteristiche dove ti senti più vicina nella generosità nella passionalità nell'orgoglio che tipo di persona sei? beh sì sicuramente sono una persona molto orgogliosa poi l'ospitalità fa proprio parte del mio carattere sono quindi se ti chiamano da Londra adesso e ti dicono veniamo a trovarti? assolutamente con piacere sì mi farebbe molto piacere sì io solo così faccio vedere tutto sul ci sono ogni giorno in un posto diverso c'è tante cose da fare qua vero? sì assolutamente sì cosa ti piace di più della tua terra? di Narcao di Narcao sicuramente il blues beh poi siamo un paese molto tranquillo senti ti sento molto moderata però c'è un contrasto tra i tuoi tatuaggi il blues essere un po' punk un po' così perché sei timida? sì sono sono timida sono sempre stata timida hai combinato qualche disastro nella tua vita? proprio disastro avventura? un'avventura? qualche avventura sì la sensazione che si ha su questo territorio lo dico un po' spesso però mi piace ripeterlo è che ti crea un po' di dipendenza un po' di mal d'Africa no? esatto un po' di mal di sulci mal della Sardegna i profumi il mare assolutamente soprattutto il clima il mare il mare tantissimo e poi vabbè anche il nostro mangiare le nostre ricette particolari sicuramente questo mi è venuto a mancare quando quando stavo fuori lei ha apprezzato molto quando sei tornata? assolutamente anche solo vedere per esempio il cielo e il sole cosa che non succedeva a Londra con la capa grigia veramente sembra una cosa una stupidaggine ma in realtà non lo è cioè molto spesso quando venivo qua in vacanza cioè vedere il cielo blu e il sole sembrava qualcosa di straordinario esattamente in effetti non è una sviolinata però questo territorio è come se avesse i colori amplificati è vero io immagino il paradiso così come se le luci i colori siano più accesi forse per la pulizia dell'aria c'è anche una logica in tutto questo certo anche i profumi sono più accentuati senti i profumi dei fiori sì 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 è vero soprattutto a giugno in primavera nella primavera sì esatto senti tantissimo soprattutto poi penso in questa zona siamo in mezzo al verde per cui nel selvaggio sulces esatto wild sì sei più wild o più tranquilla? più wild sì e allora non mi hai raccontato niente in questa intervista se tu sei più wild sei stata più tranquilla sì dai la cosa più wild che hai fatto me la vuoi dire? non saprei forse partire a Londra vivere tante avventure lì quali? i concerti i concerti ti hanno pagato vero? i concerti sì perché sono adrenalinici tantissimo tu sei rock sì molto blues e rock blues e rock sì esatto allora Veronica spero di rivederti molto rock ad un concerto così vedrò esattamente la tua verve però voglio augurarti di realizzarti qui in che cosa? beh la mia passione più grande è la fotografia quindi quello è quello a cui sto puntando in questo momento per cui grazie auguro a me stessa di di metterci tutta la mia energia e far ce la farai e noi ti daremo una mano va bene? grazie mi saluti la nonna? assolutamente come si chiama? Agata Agata sentire le vostre storie mi riempie il cuore e immagino anche anche a voi se anche voi avete una storia da raccontare basta che ci chiamate e noi verremo subito a farvela raccontare ricordatevi che ognuno di noi ha un mondo dentro e io voglio scoprirlo insieme a voi ciao a tutti e alla prossima grazie